Assessore Luigi Di Vaia si avvicina e il Natale c'è un grande fermento anche nel Comune di Ischia per preparare il cartellone di eventi. L'amministrazione Comune di Ischia è al lavoro da un bel po' per garantire un cartellone di eventi che sia all'altezza del Natale a Ischia che anche quest'anno vorrà proporsi con una serie di eventi d'eccellenza che ci auguriamo i turisti che verranno a Ischia per le vacanze natalizie e i cittadini residenti potranno gradire. Siamo in contatto quotidiano con le associazioni, con i commercianti, gli albergatori per cercare di consolidare la rete e il sistema che può aiutarci sotto il profilo della promozione del territorio ad essere più performanti perché ne abbiamo più bisogno che mai. Incrementare i flussi turistici anche nei mesi invernali approfittando del Natale è per noi un obiettivo chiave che perseguiamo oramai da anni. Certo, anche perché l'isola ha tutte le carte in regola per perseguire la strada della destagionalizzazione sia con eventi che con altre proposte turistiche. Esatto, sì. Gli eventi possono essere sicuramente un volano utile a rendere più piacevole il soggiorno a Ischia anche nei mesi invernali. Naturalmente il discorso va allargato e approfondito soprattutto per quanto attiene al comparto termale, diciamo che è un'eccellenza della quale possiamo vantarci e che dobbiamo essere in grado di promuovere al meglio per far sì che le nostre attività rimangano sempre più numerose, aperte sul territorio anche in questi mesi. Dunque un cartellone ricco di eventi anche grazie alla collaborazione di tante associazioni attive sul territorio. Assolutamente sì. Mai come in questo momento storico dobbiamo con piacere rilevare l'attivismo delle associazioni, la voglia che queste persone hanno di mettersi in gioco di proporre iniziative finalizzate, come dicevamo, a mettere in piedi una serie di eventi utili per rendere più piacevole il soggiorno a Ischia dei nostri turisti ma anche delle nostre famiglie perché non dimentichiamoci che il Natale è anche e soprattutto forse dei più piccoli quindi ci stiamo sforzando insieme a loro di agevolare tutta una serie di iniziative e di renderci protagonisti della redazione di un cartellone che sarà composto anche di nomi importanti e di iniziative rivolte ai più piccoli per un Natale che possa essere davvero indimenticabile.